Quali sono i problemi di Milano? Il problema di Milano è la politica, come viene condotta la politica a Milano. A Milano viene condotta una politica, e l'avete sentito stasera, di paura, ma non di concretezza, di propaganda, di prese in giro dei cittadini, e questo secondo me è il primo problema da risolvere a Milano. Come si immagina Milano tra cinque anni? Io mi immagino Milano tra cinque anni, con Giuliano Pisapia, che fa il suo bilancio dopo cinque anni. Io mi immagino una città finalmente più aperta, una città dove, ma io non parlo di buonismo, sto parlando dove, ma di cose normali, normalità, e come l'ha detto Finardi, finalmente Milano è una città da vivere. Cosa chiederebbe al futuro sindaco chiunque sassia? Io come cittadino italiano di origine straniera, di coinvolgere anche i nuovi cittadini nella crescita di Milano.